La denuncia da parte dei sindacati del rischio di una diminuzione occupazionale nello stabilimento IMR Industriale Sud di San Nicolò a Tordino rappresenta un pericolo per il tessuto sociale ed economico della nostra provincia e della nostra regione. E questa è la preoccupazione del deputato di azione Giulio Sottanelli, unico parlamentare della provincia di Teramo, che ha voluto fare il punto dopo lo sciopero della scorsa settimana da parte di lavoratori e sindacati. IMR Industriale Sud è un'azienda importante, strategica, oserei dire, modello per il nostro territorio e per la provincia di Teramo. È ovvio che come unico parlamentare della provincia di Teramo mi sono sentito in dovere di mettermi a disposizione dei sindacati, dell'azienda, per tutto quello che io posso fare nel mio ambito istituzionale. Mi auguro che appunto non ci siano problemi per l'occupazione perché è un'azienda che ha oltre 530 collaboratori, di cui 140 interinali e quindi dobbiamo riuscire a tutelare anche il lavoro degli interinali e quindi tutto quello che bisogna fare bisogna adoperarsi per cercare che tutto questo rimanga su Teramo. Sottanelli ha voluto ribadire la sua totale disponibilità soprattutto in vista del tavolo istituzionale in programma domani in Regione. Non mi hanno coinvolto, erroneamente secondo me, da parte dell'assessore regionale. Per questo il deputato di azione sollecita interventi tempestivi e risolutivi sulla paventata delocalizzazione della produzione sul futuro di 530 dipendenti. Le domande specifiche che io avrei voluto fare domani all'azienda è proprio in questo ambito, cioè capire se gli impegni che hanno preso a Rieti e a Iesi con le istituzioni locali lì sono impegni che vanno in un certo senso a indebolire la presenza delle risorse umane qui a Teramo.